Il solito, se ti ricordi, un po' di lunghini e poi il ciuffo ricco, dietro un po' scarati e poi qui il ciuffo, che faceva un po' così. E' lasciare anche così. La Isola dei famosi, da selvaggio. Non riesco più a vedermi senza, sono talmente integrati, ti giuro, sono i miei, 200 milioni. E' un po' come sensazione. No, no, no. No, no. Che sport di fatto? C'è nel senso di tornare a posto di tornare. Però già anche a caccetta. Sì. Rischia, eh? Però... Sì. Il mio padre è molto di infarto. Ah, lasciamo un esercizionetto. Sì. Per dire lì, no? Vedete a livello cellulare o mitocondriale? E' interessante. E' interessante. E' interessante. Proprio l'esame di tritura da noi non che dolore. Lei è già tutto pieno. Sì, sì. Prego. Ma forse... Ma forse... Ma forse... Calcio lunghi, no? Adesso magari, qui ha gli occhi, troppo. E' difficile. Facciamo un mule di mezzo sotto gli occhi. Facciamo un mule di mezzo... Sotto agli occhi? Eh... fanno i quali in un pochino questo è un team che si guarda tanto dove succedere a fare sono più lunghini via francese si vuole accogliare